Conto i secondi amici miei Chi sta facendo, prendendo le vostre decisioni, tu o la tua religione, il tuo governo o il tuo paese, chi sta prendendo le tue decisioni, dove è la rivoluzione? Amici miei, lo tengo basso, pensavo di non fare un altro video, ma siccome mi è arrivato un'email dicendo che il precedente video è parzialmente bloccato per motivi di copyright, non posso fare a meno di fare alcune riflessioni. Allora ho messo su Bella Signora di Morandi, allora se non lo metto io non se la ricorda nessuno quella traccia lì, comunque va bene. Ci sono le regole, qualcuno potrebbe dire, ci sono le regole e bisogna rispettarle, no? Bisogna rispettarle. Peccato che in questo mondo le regole le devono seguire solamente i popolari, perché quegli altri fanno quel cazzo che vogliono. Vanno in macchina dove vogliono, la velocità che vogliono e nessuno gli fa un cazzo. Non pagano le tasse, se li beccano pagano delle multe ridicole. Devo ritornare sul perché non credo nel sistema? Dai, facciamo un video fattivo, facciamo un video fattivo. Amici miei, io credo nella natura, nelle leggi della natura, le leggi dell'uomo, fanno ridere i polli, i polli fanno ridere. Quelli che dicono, ah no bisogna seguire le regole. Certo che le seguo le regole, per non farmi mettere le mani addosso dal sistema. Per questo e basta, solo per questo. Perché ho una certa convenienza. E basta. Io non parlo delle regole che dicono che non bisogna fare del male al prossimo, perché ci sono anche queste. Ma tutte le altre, insomma. Insomma. Il copyright. Il copyright lo applicano quando vogliono. Le tasse le applicano quando vogliono. I tributi li applicano quando vogliono. Ma se confrano... Bisogna credere ancora nel sistema, andare a votare, andate a votare, andate a votare. Tanto è tutto un teatro. E la regia è una sola. Qualcuno mi ha fatto qualche domanda, qualche... molti mesi fa, parlaci della regia. La regia è una sola. È una sola. Solo una regia c'è. E poi fanno finta, no? Fanno finta, c'è... Come si dice... Spider-Man contro... Doctor Octopus. C'è, non so... Superman contro... Qualcuno... Batman contro Joker. Ma è tutto finto. È tutto finto, amici miei. È tutto finto. Io non faccio video di propaganda, non me ne frega un cazzo, non ho voglia. Non ho voglia. Se non vuole capire, capisce. Per me sono stati... E' stato il 2020, l'anno illuminante. L'anno illuminante è stato quello. Sono tutti d'accordo. Che arte, che arte. The money. The money. The money. Questo. Devo andare avanti a fare video di propaganda. Ma questo non è un video di propaganda, questo è un video di buonsenso. Un video di buonsenso. Le regole valgono solamente quando vengono fatte valere da chi vuole che le fa valere, a chi vogliono che vengono fatte valere. Tutti gli altri fanno il cazzo che vogliono. E tutti gli altri fanno il cazzo che vogliono. Eh? Eh, questa è la verità. Mi mando di piglia per il culo. Mi mando di piglia per il culo. Bene, non voglio toccare argomenti delicati. Andate in chiesa a seguire quello che vi dice il vostro prete, no? Tanto però lui fa quel cazzo che vuole. Dopo la predica, o anche prima, cioè prima del funerale di mia mamma si era fatta una striscia. E si vedeva lontano un miglio che era fatto. Allora, per chi valgono le regole, amici miei? Per chi valgono le regole. E con questo chiudo il video. Per chi valgono le regole.